Stasera vado ad una festa a tema Disney Channel e mi vesto da Shar-Pei di High School Musical. Infatti stasera c'è il Teenage Dream a Bologna e ci sono già stata una volta, ma non vedevo l'ora ci fosse un'altra serata. Ci andrò con la stessa amica e l'altra volta avevamo fatto le magliette con scritto tipo Io, Joe Jonas, is my crush since 2008 e lei, Troy Bolton, is my crush since 2006. Ma stavolta abbiamo deciso di trasversirci da Gabriella e Shar-Pei. In particolare io, Shar-Pei, della scena di High School Musical 2, Fabulous, mentre lei, Gabriella, di High School Musical 3, la mia preparazione è già un po' iniziata nel senso che ho fatto i capelli come voi in live, infatti ho fatto i boccoli e li ho fatti prima perché così per stasera scendono un po'. Poi ho fatto anche la scena brasiliana, ma questo non c'entra. Sono leggermente truccata da oggi, infatti adesso ci andiamo a struccare. Ok, come si può vedere mi sono struccata e adesso nell'attesa, siccome manca circa un'oretta fino a quando arriva la mia amica, mi vado a fare dei patch agli occhi, questi qua di Pixi perché sono un po' stanca e questi mi possono un po' aiutare. E' arrivata Sara, eccola qua, e adesso inizia effettivamente la nostra preparazione. Come indosserò una tutina bianca, direi di andarci prima a truccare. Ok, questo è l'outfit che abbiamo preso da Shein, quindi questo cardigan fucsia e questa tutina bianca, ovviamente lei nella scena originale di Fabulous ha il costume bianco però vabbè dettagli, e poi gli accessori, mentre Sara avrà questo vestito iconico e le scarpe abbinate. E raga, la chicca. Ci siamo carine. Ah, ok. Ok, questi sono quindi i nostri outfit con anche le collane entrambe. Io ho questi occhiali super anni 2000. E nulla, fateci sapere se vi piacciono, vi dimostriamo dopo allo specchio. E tadan, look finale con anche le scarpe. Diteci se vi piace e se soprattutto ci somigliamo perché siamo curiose. E nulla, fateci sapere.